Io lo trovo magico e perfetto, mi è talmente piaciuto che alla fine non avevo manco voglia di parlare, di discutere sul film, volevo rimanere in questo sogno, c'è tutta la poesia del mondo, tutta la sicilianità, ma l'universalità, perché io sono sicura che anche in Cina questo film piacerebbe tantissimo, proprio perché c'è l'essenza dell'animo umano, è poesia pura, bellissimo.